Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi torniamo a parlare di moto cinesi, lo avete visto nel titolo, e lo facciamo con la nuova sportiva della QJ Motor, l'evoluzione dell'attuale SRK600RR. Ora, prima di parlare nel dettaglio della moto di oggi, di questa sportiva, magari facciamo qualche premessa, che sono poi le stesse che faccio quando vi porto video sulla QJ Motor oppure su altre aziende cinesi, le faccio perché, insomma, capite, magari non tutti seguono i miei video, magari alcuni sono nuovi e non conoscono le dinamiche sui mercati orientali. Oggi parliamo della moto della QJ Motor. QJ Motor è un'azienda in Italia praticamente sconosciuta, in quanto è un'azienda nata poco tempo fa, più che altro per i mercati orientali. Una moto, per esempio, un'azienda conosciuta, per esempio, già in Cina, un'altra azienda detenuta dal marchio QJ Group, che è un grosso marchio cinese, che oltretutto detiene anche, per esempio, il marchio Benelli e anche il marchio QA Motor. Però vi ricordo che all'ultimo Ecoma 2021, a sorpresa, era presente anche la QJ Motor, con diverse proposte che in teoria dovrebbero poi arrivare da noi in Italia nei prossimi mesi. Tra queste proposte nuove della QJ Motor ci potrebbe essere anche questa sportiva della quale parliamo oggi. Dicevo, possiamo vederla questa moto di oggi come l'evoluzione dell'attuale SRK600RR, che è la moto che vedete qui di fianco. Una moto della quale vi ho parlato circa due anni fa, quando è uscita in Cina. All'epoca si pensava che sarebbe poi arrivata in Italia a Marchiata Benelli, in realtà la moto da noi comunque non è ancora mai arrivata. Quella moto, l'SRK600RR prima versione, chiamiamola così, montava il motore, 4 cilindri, un 600 di cilindrata, con una potenza di 80 CV. Una moto fatta abbastanza bene, se vogliamo, come caratteristiche, per esempio montava anche uno schermo TFT, traction control, un impianto frenante comunque abbastanza di qualità, così come anche le sospensioni. Insomma, una moto fatta abbastanza bene e venduta ad un prezzo interessante, quantomeno sul mercato cinese. Però, insomma, quella moto era omologata all'equivalente della nostra Euro 4, quindi ovviamente non poteva poi arrivare neanche in Italia, in quanto da noi è arrivato, sapete, l'Euro 5. Però la moto della quale parliamo oggi, la nuova SRK600RR, ha ricevuto diversi aggiornamenti, a partire comunque dall'estetica, il design, caratteristiche tecniche. Il motore adesso è più potente, il serbatoio è più capiente, migliora anche la ciclistica, anche il pacchetto elettronico, migliora anche l'omologazione, un gradino superiore. Quindi potrebbe essere che magari questa moto effettivamente adesso venga omologata a Euro 5 e potrebbe arrivare quindi sul mercato anche italiano. Per questo oggi vi parlo di questa moto. Quindi è un po' diverso rispetto al video della TRK702 che vi ho portato qualche giorno fa, in quel caso si parlava di una moto Benelli, ma che al 99% rimarrà confinata comunque al mercato cinese. Comunque si è discorso, SRK600RR nuova, qui di fianco vi lascio qualche immagine. Rispetto alla versione iniziale, quella vecchia, noterete diverse migliorie. L'estetica cambia parecchio, per esempio cambia molto anche la forma del faro. Una livrea che ha un mix tra il rosso e il bianco, ma soprattutto si notano le nuove alette aerodinamiche, fatte in modo che ricordino la fibra di carbonio. Un discorso a lette aerodinamiche, secondo la casa, quanto pare, non sono messe lì a caso, ma dicono loro che hanno fatto anche uno studio e queste alette sono comunque in grado di generare un carico aggiuntivo sui 5 kg a 150 all'ora, il che migliorerebbe la stabilità della moto. Così dice l'azienda, onestamente non so quanto possa essere vera questa cosa, però ragazzi, quello che dice l'azienda sicuramente andrebbe verificato. Diciamo che le elette aerodinamiche su moto di questo tipo non hanno secondo me veramente senso, possono avere un senso sulle moto, sulle sportive 1000, ma per chi va in pista, per chi invece gira su strada con moto, con queste potenze, secondo me sono semplicemente degli addobbi per fare scena, vanno di moda, ma non è che migliorano le prestazioni, ragazzi. Ultimamente vanno di moda queste elette aerodinamiche, addirittura vedo gente, per esempio su Instagram, che monta elette aerodinamiche aftermarket su moto come l'R6, per andare in strada, fanno scena, ma fondamentalmente non sarebbero a nulla, anzi, se uno vuole levantarsi con le elette aerodinamiche la moto rallenta, in quanto alle alte velocità le elette aerodinamiche fanno resistenza, non è che la moto va più veloce, no? Va più veloce in pista per altre dinamiche, ma non perché è più veloce la moto grazie alle elette aerodinamiche. La top speed, insomma, in teoria va a diminuire. Comunque sì, è chiusa questa parentesi alle elette aerodinamiche, che possono piacere o possono non piacere, comunque se diciamo è la moda del giorno d'oggi. Notiamo poi anche una forma diversa, per esempio, della carenatura, che fa risparmiare la carena nuova circa un-due chili rispetto al peso della vecchia SRK600RR. Cambia anche la forma del codino, cambia anche lo scarico, cambia anche il serbatoio, insomma, è una moto pesantemente rivista. Diciamo che come estetica non è una moto bruttissima, ho letto in diversi che paragonano questa moto, diciamo, un po' alla Ducati Panigale come estetica, no? Diciamo che alla lontana ricorderebbe la Panigale, secondo me questa moto è talmente brutta che non ricorda nessuna moto italiana. Già paragonarla lontanamente a una moto italiana, secondo me, è un mezzo insulto, comunque sia sicuramente a qualcuno questa moto potrebbe anche piacere. Invece, come caratteristica, dunque, dicevo che il motore è fondamentalmente rimasto lo stesso, però adesso guadagna un'omologazione in più sul mercato cinese. Guadagna anche dei cavalli. La versione vecchia, come potenza, arrivava a circa 80 cavalli. Questa arriva a 87 cavalli, a 11.500 giri, mentre la coppia 56 Nm, a 10.500 giri. La moto pesa in marcia 213 kg, mentre prima la versione vecchia ne pesava 215 kg. Altezza sella 790 mm e un serbatoio di 18 litri. Un serbatoio effettivamente bello capiente. Cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che questa moto si potrebbe quasi paragonare a una Honda CBR650R, perché i dati più o meno sono lì. La potenza è leggermente più bassa, così come anche la coppia. Però se vogliamo, il peso, che è sicuramente abbastanza rilevante, è lì con il peso anche della CBR650R. La CBR650R della Honda l'ho provata circa due anni fa, effettivamente il peso comunque si sentiva, ma nonostante questo difetto comunque la CBR è una moto che vende molto bene. Ecco, questa nuova SRK della QG Motor pesa circa 5 kg in più, quindi poco in più rispetto alla Honda CBR650R. di rimando pesa molto di più rispetto per esempio a una Yamaha R7 o una RS660 dell'Aprilia. Per altre cose, ciclistica, telai in acciaio, sospensioni firmate, Omar Zocchi oppure Kayaba, non è chiaro bene questa cosa, dalle immagini non è che si veda molto bene, comunque sia sono anche di qualità, stai lovesciati, la forcella. Il petto frenante è addirittura di Conobrembo, con un doppio disco all'anteriore, da 320 mm, con pinza radiale a 4 pistoncini, la posteriore è un singolo disco 260 mm, gommata 120-180 con ABS anche della Bosch. La strumentazione è uno schermo TFT da 5 pollici, che sulla carta sembrano interessanti, in realtà sulla versione precedente dell'SRK la definizione era abbastanza bassa, comunque sia è sempre uno schermo TFT. Altre cose, traction control, dovrebbero esserci anche il riding mode, più anche c'è la presa USB per ricaricare il telefono e anche i comandi, i blocchetti che sono retroilluminati. Insomma, è una moto abbastanza completa come pacchetto, se vogliamo. Il prezzo di questa versione nuova dovrebbe stare attorno ai 7.000 euro sul mercato cinese, l'equivalente dei nostri 7.000 euro. Questa è un po' l'SRK 600RR nuova, come sarebbe fatta. Sulla carta non sembra male, anche se il design è un po' così così. Potrebbe arrivare in Italia. Ci sono alcune teorie. La prima, quella magari più plausibile, è che magari arrivi marchiata QJ Motor in quanto appunto la casa cinese era presente all'ECOMA 2021, quindi sicuramente vedremo qualcosa nel tempo della QJ Motor. La seconda teoria è che magari questa moto arrivi ma un po' rivista e marchiata Benelli, quindi magari cambierà un po' l'estetica, magari il colore, magari anche verrà rivisto un po' al motore, magari con più potenza. Un'altra teoria che miscela un po' il tutto è che potrebbe magari arrivare la stessa moto sia marchiata Benelli che marchiata anche QJ Motor. Insomma, al momento non si sa se questa moto effettivamente arriverà da noi, però diciamo è altamente probabile, sicuramente vi tornerà aggiornati. Comunque sia, ecco, questa moto si può inquadrare come concorrente delle varie Yamaha R7 che vi ricordo va a costare sopra i 9.000 euro, della CBR che va a costare sui 9.200 euro e anche dell'Aprilia RS che costa sulle 11.000 euro. Capite bene che magari la moto offerta ad un prezzo di 8.000-8.500 euro che per qualcuno potrebbe magari essere una valida alternativa in quanto meno costosa rispetto a proposte giapponesi oppure italiane. Magari nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa moto, se magari potrebbe interessarvi se mai dovesse arrivare sul mercato italiano o se magari vi piace come è fatta, se non vi piace, eccetera, eccetera. Diciamo che se dovesse arrivare comunque io direi che la moto potrebbe costare se in Cina va sulle 7.000 euro secondo me in Italia potrebbe costare poco di meno rispetto alle giapponesi, no? I cinesi, l'avrete notata questa cosa, magari anche con le varie moto della Vodge, CF Moto o anche alcune moto della Benelli, non è che vanno a costare 3-4.000 euro in meno rispetto alle controparti giapponesi, ma costano sempre poco di meno rispetto alle giapponesi oppure ad altre proposte di altri marchi, no? Quindi se in Italia la Honda costa una 2.200, secondo me questa SRK potrebbe costare poco di meno, magari 8.500-8.700, comunque si abiterà aggiornati. Verrete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro YouTube o allo Instagram di Nia Becker Ufficiale e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!